ciao amica ciao amico mi chiamo marcello secco faccio questi video perché sono un appassionato di moto se anche tu come me lo sai iscriviti al canale e attiva la campanella oggi di parlo cf motor 800 mt sport versus qj motor srt 800 entrambi del 2023 prima però di partire voglio chiedere se ha intenzione di vendere la tua moto parliamone clicca qui sotto c'è un link in descrizione partiamo quindi da cf moto 800 mt che utilizza come motore unità derivata dal motore della ktm 790 adventure quindi con le stesse caratteristiche del motore austriaco anche se i carter hanno il marchio cf moto questo fatto rappresenta una garanzia per le appassionati che possono trovare una moto interessante sotto vari punti di vista la garanzia di avere derivato il motore da una unità collaudata nel tempo rispetto al motore della ktm è stato un addolcimento nell'erogazione della potenza per secondare sia un carattere sportivo con particolare attenzione alla dolcezza di erogazione della potenza piuttosto che al volo e massimo in assoluto quindi a questo punto vediamo la moto in questa immagine e partiamo nel motore che un bicilindrico di 799 centri di cubi raffreddato ad acqua con la distribuzione di albero una potenza massima di 91 cavalli a 9.250 giro al minuto la coppia massima di 75 newton metro 8.000 giro al minuto il telaio formato da un tubo in acciaio ad alta resistenza mentre la sospensione affidato alla forcella della caia bastelli rovesciati da 43 mm regolabile nel precarico della molla dell'idraulica alla corsa di 160 mm la sella alta 825 mm la terra posteriore sono in presenza di un monomotizzatore idraulico regolabile del precarico della molla che offre escursione della alla ruota di 150 mm i freni sono formati da un doppio disco all'anteriore da 320 mm mentre dal posteriore siamo in presenza del singolo a 260 mm ruote sono in lega leggera da 19 pollici all'anteriore e 17 pollici al posteriore la capacità del salvatoio di 19 litri il peso in ordine di marcia di 218 kg per un prezzo di 9.990 euro quindi in pratica 10.000 euro bene quindi partiamo adesso invece con la qj moto srt 800 che si presenta con una proposta di quella categoria di moto che rappresentano il settore delle crossover di fabbricazione cinese con la benelli 502 x è nata quindi una nuova tipologia di moto che si pone come moto adatta un uso quotidiano ma anche per i viaggi qualche escursione su strada bianca per il confronto quindi vi partiamo dalla cilindrata che di 799 abbiamo detto per questa mt mentre la qj moto ha una cilindrata di 754 cm3 quindi una piccola differenza di 45 cm3 il motore invece della mt esprime una potenza di 91 cavalli contro i 76 cavalli di qj motor in questo caso la potenza di 15 cavalli che può fare appunto la differenza anche per quanto riguarda la differenza di peso la mt pesa 218 kg mentre il peso di qj motor sul sito della qj motor italia dichiarato in 236 kg e presenta quindi una differenza di 18 kg di peso che dimostrano come di fatto le due moto siano abbastanza diverse per quanto riguarda il peso per quanto riguarda il prezzo la mt costa abbiamo detto 999 euro quindi praticamente 10.000 euro mentre la srt costa costerebbe di per 9999 euro anch'essa ma è in promozione 8 con mille euro in meno quindi 8.990 euro quindi la differenza in questo caso è di mille euro adesso invece parliamo di qj motor che uno dei marchi di grande gruppo industriale cinese vicino shanghai che da lavoro 14 mila persone producendo moto scooter quadricicli biciclette elettriche ed altro la qj moto srt 800 si presenta quindi come un'interessante proposta nel settore della moto di tipo adventure per le sue caratteristiche di buona qualità ma offerta un prezzo concorrenziale esteticamente la moto pare gradevole un aspetto che riprende le caratteristiche comuni questo tipo di moto quindi frontale col becco la presenza del parabrezza del paramani delle belle ruote in lega il motore quindi un bicilindro questo punto vediamo eccolo qui la moto un bicilindrico che ha una cilindrata di 754 cm3 la distribuzione bialbero 4 sulle valvole per cilindro con raffreddamento liquido la potenza massima abbiamo detto di 76 cavalli 9.000 giri al minuto la coppia massima 67 newton metro a 6.500 giri al minuto il telaio tra liceo lega d'acciaio con la forcela telescopica con escursione di 110 mm la sella alta 795 minuti da terra posteriore sono in presenza di un monomotizzatore con escursione 50 mm con il forcellone bibraccio le ruote lega leggera su 17 pollici l'anteriore come il posteriore l'avantreno i freni sono doppio disco con attacco della pinza radiale pinze fermate brembora 320 mm diamo un po meglio qui eccole qui e mentre posteriore da 260 mm il disco il serbatoio 18,5 litri pesano di rimarci 236 kg il prezzo di 2.290 euro abbiamo detto in promozione 8.990 che prima fossero detto 9.999 90 ma è il prezzo della versione x il set di valigie laterali boleto posteriore sono opzionali a 1.290 euro se ti è piaciuto il video metti un like se non ti è piaciuto metti disdike ma iscritti al canale e attiva la campanella prima completamente gratis se quando faccio un video al giorno sei sempre aggiornato aggiornato sui contenuti qui sotto i tuoi commenti sono sempre graditi ciao buona serata